Ciao beautine! Bentornati in questo nuovo video, allora continuo la mia serie di video dedicata ai grandi classici del makeup ed oggi vi propongo uno smokey eyes marrone, bello intenso, che sta benissimo un po' a tutte ma soprattutto sugli occhi chiari direi quindi di non perderci in chiacchiere e partire subito con il tutorial iniziamo come mio solito ad applicare il correttore su tutta la palpebra e l'ombretto color carne opaco sotto l'arcata sopraccigliare e nella piega dell'occhio all'attaccatore delle ciglia inferiori e nella piega dell'occhio applico l'ombretto sabbia sulla palpebra mobile e nella piega dell'occhio e all'attaccatore delle ciglia inferiori applico l'ombretto marrone applico l'ombretto nero all'attaccatura delle ciglia inferiori e successivamente sulla palpebra mobile creo una mega riga di liner sempre utilizzando l'ombretto nero realizzo una riga di liner nera giusto per intensificare bene l'attaccatura delle ciglia inferiori e successivamente per andarla un po' a nascondere applico al di sopra l'ombretto nero nella rima interna inferiore e superiore dell'occhio applico la matita nera che vorrei fissare come al solito con l'ombretto nero e termino il trucco occhio applicando abbondante mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori dell'occhio e questo è il look terminato io spero che questo smokey eyes marrone bello intenso vi sia piaciuto ovviamente lasciatemi un like se è così e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao beautine